Abbiamo avvistato mamma Agnese sia con il drone e anche in un gioco Infatti questa pazza sta essendo avvistata ovunque ragazzi Infatti mi raccomando stiamo attenti tutti quanti Soprattutto nelle zone buie perché lei si nasconde lì Ragazzi io sto viaggiando con il drone Praticamente in questo posto E guardate qui sono tipo nel mezzo della foresta pluviale Non so dove mi trovo esattamente Però so che qua è stata avvistata mamma Agnese Ok dannazione qui è super pericoloso Ho paura che mamma Agnese mi salte e mi distrugga il drone Perché io l'ultima volta l'ho perso Cioè me l'ha distrutto Sonic E infatti non ci ho fatto più tantissimi video con il drone Perché dovevo ricomprarlo mi è arrivato dopo un po' E invece adesso rieccoci qua con il drone per la seconda volta Dannazione Devo stare attento quindi questa volta Infatti sto volando molto alto così nessuno potrà mai prendermi Voglio rendermi figli di scrofa E la scrofa è tipo la mamma della maiale Ragazzi mi sto dirigendo verso questa città Perché mamma Agnese si dice sia stata avvistata Dentro questo mondo Porca vacca Che paura mamma Agnese è proprio una pazza Che non è proprio normale purtroppo Per fortuna siamo in città Quindi ci sono altre persone Peraltro questi palazzi sono veramente grandi Non fate caso la città ovviamente è super tecnologica Incredibilmente futuristica Però a noi interessa mamma Agnese Quella grandissima pazza che non è altro E dobbiamo trovarla prima che sia troppo tardi Oh cacchio Oh signore si sposti si sposti Devo andare a trovare mamma Agnese Ok Dovrebbe essere da questa parte Ci sono anche le macchine volanti Perché hanno paura di mamma Agnese Quella grandissima pazza che non è altro Oh dannazione Ok Ragazzi cos'è stata questa cosa? Ma lì c'è mamma Agnese per caso? E chi è che sta sparando? C'è qualcuno che sta No mi sa che si stanno sparando fra di loro Che schifo non si fa questa cosa è brutta No ragazzi ma guardate cosa ho trovato qui Ho trovato questa cascata incredibile E Allora Mamma Agnese è stata avvistata ovviamente in questa zona Perché se no non ci andrei Però Ma che posto è questo? Cosa ci fa qui? Ma è pazza questa qua? Ma ragazzi ma mamma Agnese è pazza proprio eh? Ma cosa ci fa qua in questo posto? Ma forse non la troviamo proprio nell'acqua A meno che non sia completamente impazzita Che potrebbe essere? Vabbè vediamo meglio Perché potrebbe essere anche qua Oh ma ci sono dei pesci volanti Ma in che senso? Come funzionano questi pesci volanti? Sono tipo degli ologrammi Sapete cosa sono gli ologrammi? Beh questa cosa non si dovrebbe fare Ok Adesso andiamo da questa parte qui Perché in teoria qua Possibilmente si riesce ad andare a piedi Perché io dovrei fermarmi e andare a piedi E trovare mamma Agnese da questa parte Esattamente Proprio qui Bene ragazzi Adesso usciamo dalla macchina Forza esci Esci Devo trovare mamma Agnese Esatto Sì 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 Mamma Agnese Saresti qui per caso? Forse è meglio non guardare da questa parte Purtroppo C'è C'è Sono cose strane Oh salve signora polizia Avete per caso visto mamma Agnese Dovrebbe essere qui Intorno Purtroppo Molta paura di trovare mamma Agnese Ma che cose brutte che ci sono qui sui muri ragazzi No questa è un'ultima macchina Adesso la ruberò Bene 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 Ci troviamo qui eh Dannazione ragazzi Che cos'è questa cosa eh Vedete? Vedete? Questa potrebbe essere Lunar eh? Eh? Lo so io Vengono segnate cose molto strane in questi posti Ragazzi ma quella è veramente mamma Agnese Ma che cosa ci fa qui? Lo sapevo Lo sapevo Le voci di corridoio erano giuste Era tutto vero C'è mamma Agnese qui Dannazione Ok ho girato un po' Non era lì nella cascata per fortuna Però magari potrebbe essere qui sulle strade più vicino Vedete? Non c'è nessuno Nel raggio di migliaia di chilometri Porca vacca Ma è incredibile tutto questo ragazzi Wow Ho paura che comunque mamma Agnese qua Mi salti E proprio Poi tipo scopra dove sono io e mi uccida Ok Sono qui da questa parte Di là più avanti se vedete c'è il mare Ma poi ci andiamo eh anche di là vicino al mare Perché secondo me Mamma Agnese si sta prendendo il sole Quella là è pazza Vedete c'è anche un trattore mi pare lì sotto Perché si sta muovendo C'è tipo una cosa che sta lavorando i campi Ok Beh interessante almeno C'è qualcuno almeno Certo E se fosse in pericolo quella persona contro mamma Agnese ragazzi Sarebbe un problema Dovremmo cercare di dirglielo Ma come facciamo a dirglielo Non credo che posso dirglielo Beh glielo diciamo solo se vediamo mamma Agnese con il drone qua vicino Altrimenti beh non ha senso spaventarla giustamente Ok sto viaggiando anche qua C'è un po' più di vento ragazzi Quindi ho paura che il drone mi cada di nuovo Ma non credo succederà proprio Sapete io ormai sono diventato super bravo A controllare questi droni del cacchio Porca bocca cosa diavolo è stata quella roba Avete visto? Ehi Ho paura che mamma Agnese impazzisca completamente E mi distrugga il drone Perché guardate che questa qua non era Cioè una cosa solo innocua Cioè secondo me fa davvero male questa cosa che abbiamo appena visto eh Dannazione E secondo me lì da qualche parte nella foresta Si potrebbe nascondere mamma Agnese Ma però c'è è infinito questo posto Come facciamo a trovarla? Perché Ma comunque sarà piccolina Cioè se è una mamma Non è enorme Però comunque È veramente pericolosa E quindi dobbiamo trovarla Ma non Come facciamo a trovarla così a caso ragazzi? Porca vacca Questo mondo Peraltro perché tutto quanto notte Continua ad essere notte Guardate Ma poi quanto Quanti sono alti questi palazzi Mi devo nascondere da mamma Agnese in uno di questi palazzi enormi Guarda Oh Ragazzi Così bello Guardate quanto sono alti questi palazzi No Ma che bello Ah Devo per forza nascondermi Da mamma Agnese In questi palazzi Sto andando in mezzo alla strada Non si deve fare ovviamente Ma io lo faccio lo stesso Eh sì E vedete Io sono in mezzo alla strada qua Perché stavo scappando da mamma Agnese Quella là mi sta inseguendo ragazzi Come diavolo faccio a liberarmi in questo mondo così enorme peraltro Ma che cosa ci fa questo tizio qua Ma signore non si può fermare qui in mezzo alla strada Ma che Ma Vabbè io prendo la sua auto comunque Perfetto Direi che è un'ottima cosa Ottimo Adesso ho una piccola macchinina In modo da arrivare in questa città qua No non vuoi andare da quella parte Vuoi andare proprio nella città Così almeno abbiamo più possibilità di avvistare Mamma Agnese C'era una macchina volante avete visto Dannazione Sarà guidato da mamma Agnese Spostatevi Spostatevi ho detto Andate via Devo andare a trovare mamma Agnese Ah Dannazione Quella pazza psicopatica Dove è finita Dannazione Mamma Agnese Io ti troverò Fosse l'ultima cosa che faccio Oh cos'è stato Avete sentito tutti Cioè Non so se si è sentito qualcosa Oppure era nel gioco Però secondo me C'è stata mamma Agnese Ma che cosa è successo qua Cos'è stata mamma Agnese Che ha fatto tutto ciò Ragazzi Ma che strano What Ma cos'è successo in sto posto Guardate È tutto distrutto Ma Dannazione Ma che cosa è successo E poi guardate questi palazzi Non sono nemmeno stati mai finiti In realtà È tutto distrutto qua da questa parte Ragazzi Ma cos'è successo C'entra per caso Mamma Agnese Sarebbe strano Se c'entrasse lei No ma guardate qua Ci sono un sacco di auto Che stanno andando a fuoco E qui dentro Questo è un negozio In realtà Si può entrare Ma è un negozio distrutto Ok Adesso sono decisamente più in alto Perché prima era Ci sono una cosa strana Ragazzi Veramente strana Io non voglio proprio Trovarmi Da queste parti E guardate cosa ho trovato qua Adesso cerchiamo di girare il drone Senza farlo cadere Magari Perché qui guardate 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 Sì c'è la montagna Ma aspettate un attimo Aspettate un attimo Ok Giremo ancora un po' Perché è importante girare Un po' più veloce Eccoci qua Guardate ragazzi Ma c'è una mega cascata Cioè io stavo per andare dentro La cascata con il drone Beh mi si sarebbe distrutto lì Dannazione Ma sono pazzo Per caso Mmm Non è giusto Dannazione Dannazione Guardate qua Guardate Mi avrebbe distrutto ogni cosa Questa cascata del cacchio Cattiva 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 cascata Ok Qua siamo di nuovo Da questa parte Cosa diavolo è successo? Avete visto? Ma che cos'era quella roba ragazzi? Io Non so Ho lo schermo piccolino Quindi non vedo bene Se voi vedete qualcosa di più Scrivetemelo ovviamente nei commenti Perché potrei non vedere le cose per bene Quindi Mi raccomando Però comunque Ehm Giriamoci un attimo intorno Madonna ragazzi ma In che posto siamo finiti? Cioè io dopo devo richiamare il mio drone così proprio Cioè devo premere questa cosa per richiamarlo Se no veramente Non mi arriverà mai più eh Guardate le nuvole Le nuvole possono farmi venire un fulmine sul drone Ok io per l'ultima volta ci provo Perché voglio vedere cosa diavolo c'è qui Al mare Perché ragazzi secondo me Mamma Agnese si sta prendendo Il sole divino Per divino intendo che La sua pelle diventa divina Ma guardate qua Cioè il mare è pure super agitato Ed è pericoloso in questo momento Perché se arrivassero Mamma Agnese qua E mi facesse cadere il drone in acqua Io impazzirei completamente ragazzi Completamente proprio Adesso sapete cosa facciamo Scendiamo anche Appena ci rendiamo conto che è tutto quanto sicuro Perché secondo me Bisogna stare attenti che Mamma Agnese Non ci faccia del male Però io direi che possiamo iniziare un pochettino a scendere Certo che comunque il segnale arriva un po' Perché è un po' distante Quindi arriva un po' in ritardo Perché giustamente poi il segnale ci mette un po' per arrivare E questo mi fa paura Perché potrebbe Mamma Agnese già avermi distrutto il drone ad esempio Ok stiamo scendendo Porca vacca ragazzi Ho super paura Oddio il drone si sta spostando Non lo sto spostando io perché Si sta spostando Forse era per il vento Guardate che qua c'è un vento infinito eh Assolutamente Oddio ragazzi Quello è Mamma Agnese Ma che cosa ci fa qui Mamma Agnese vattene subito via Porca vacca Ok adesso abbiamo ripreso il controllo del drone Per fortuna è ancora in volo Quindi vuol dire che non me l'ha distrutto ragazzi Ci mancava solo Forse ha provato pietà per me Dopotutto è una mamma no Solo che è una mamma pazza Quindi non so quanto possa essere bello Beh giriamoci insomma Perché qua io voglio capire se c'è qualcuno Ma non mi pare Non mi pare Mi sembra che Mamma Agnese se ne sia andata Mamma Agnese è cattiva Non si fa Non si fa Mi hai spaventato Donnozione Lei lo fa apposta Lei fa paura apposta Si diverte così Donnozione Pazza psicopatica Che non sei altro Comunque non c'è più Vedete Pazza psicopatica Grazie a tutti.